Welcome back ragazzi. È caos. Qui in macchina. Che dire? Che dire? Che dire? Che dire? Le blind run sono playthrough alla cieca. Cucco! Sto soffrendo. Io so che nei miei video farei già un sacco di pop up e video. Qualche tipo di effetto carino, ma no. Guardate un po' che cagata. Poi devono fare di più. Digitale! Digitale!